Buongiorno a tutti, bentornati e continuiamo a parlare di champagne con un piccolo produttore della champagne nel comune, nel uno dei 17 comuni Grand Cru della champagne e siamo precisamente nella zona della Côte de Blanc nel comune di Augère. Il produttore che vedete qua accanto a me nella bottiglia è Damier Anciot ed è uno champagne Blanc de Blanc, tutto chardonnay del comune di Augère. Diciamo che nella Côte de Blanc le particolarità sono di avere un gesso affiorante con delle belemniti ed altri fossili e di creare degli champagne di una rara finezza con una buona mineralità e una grandissima eleganza. La particolarità di questo produttore l'azienda è condotta ormai da quattro generazioni ed è guidata da Nicolas Demier, una produzione circa di 30.000 bottiglie. La particolarità è che le vigne hanno un'età minima di 40 anni e la maggior parte di esse sono tutte esposte a sud-est. Tutti i vini sostano sui lieviti per almeno tre anni e la sboccatura è tutta alla voler. Quindi Augère ha un sottosuolo formato come dicevo da pura belemnite dal quale si recavano degli champagne con un'acidità e una mineralità elevata che dopo un lungo affinamento si trasformano in eleganza e complessità. Questo champagne ha una percentuale di 100% chardonnay, usa un 20% di vino di riserva e non fa la malolattica. Ha una permanenza sui lieviti di almeno tre anni e un dosaggio di 6 grammi zucchero per litro. Le caratteristiche come parlavamo ha un colore giallo paglierino, è una bollicina fina e persistente ed un sapore al palato molto schietto e tonico. Al naso delle sensazioni di pere date da questo vitigno che è lo chardonnay ma con una speziatura di noce moscata sul finale. Fresco e complesso come vi dicevo con una mineralità gessosa dettata dal comune di provenienza. Cin cin al prossimo video e al prossimo produttore.